Assicondando di buon grado l'iniziativa dell'editore voglio anch'io parlarvi brevemente della mia ultima fatica liberaria. Si tratta della Notte dal Sole, nove lezioni di museologia, stampata appunto per i tipi di Armando. Come descrivere in poche parole quest'opera? Appunto come la trascrizione di alcune lezioni svolte in concreto presso lo studio teologico di Trento e presso l'Istituto di Scienze Religiose della Medesima Città, realtà in cui io insegno Storia della Filosofia, Egnoseologia e Dermeneutica. L'opera ambisce ad un obiettivo ben preciso, quello di esaminare l'ambito umano della conoscenza e vagliare al tempo stesso le condizioni di possibilità, i limiti e le potenzialità della filosofia della conoscenza. Questa che in fondo è una breve ma succosa propedeutica, mira di inserirsi nel lungo e luminosissimo solco della tradizione filosofica del realismo occidentale, a come suoi punti di riferimento fondamentali Santo Maso d'Aquino e Aristotele. In fondo la notte del sole lancia alla filosofia del terzo millennio un invito, quello ad assecondare la strada maestra del realismo per arrivare finalmente a liberarsi dalle secche in cui la stessa filosofia si è incagliata negli ultimi 5-6 secoli a causa di tanti idealismi espliciti ed impliciti. Buona lettura! Grazie a tutti!